A chi appartiene il volto di questi uomini e queste donne di pietra? Le sculture sottomarine dello Yucatan, con il loro messaggio, ci sembrano un popolo del futuro, che ci guarda da lontano e giudica i nostri limiti. Ai loro occhi forse il più grande delitto della nostra epoca sarebbe non far tesoro di quanto sappiamo, non proteggere il mondo degli oceani, che ora ha bisogno di noi. Arte nel mondo sommerso. Perché l'uomo ha intrapreso questa sfida con le opere della natura? Stiamo entrando nel mondo di sotto, sacro Ainaia. Ecco il cielo di Cozumel, famoso in tutto il mondo, con il suo trionfo di stelle e le sue speciali costellazioni. I maia furono grandi aritmetici e astronomi, ma probabilmente non videro mai in questo modo le creature marine della notte, cheppur erano così vicine a loro. Ainaia. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.